E gli avvocati dello studio rotale. Aiutare le coppie a scoprire la dimensione cristiana ed umana del matrimonio è l'invito rivolto da Benedetto XVI ai giudici della rota romana nell'ampio discorso rivolto loro in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il Papa ha segnalato che nel matrimonio si realizza la volontà del creatore e dunque gli sposi vanno aiutati a verificarla nella loro vita di coppia. Occorre contrastare un'ottica riduzionista che misconosce la realizzazione effettiva di una vera comunione di vita e di amore, idealizzata invece su un piano di benessere puramente umano. Va contrastato anche il pessimismo antropologico che vuole convincere sull'impossibilità di realizzare una comunione vera di vita. Quanto alle cause di nullità per incapacità psichiche, il Papa ha suggerito la presenza di periti psichiatri in aiuto dei giudici.